famiglia buenos dias oggi siamo qui con il terzo episodio della serie di ciuchino se vi siete persi gli episodi precedenti andate a vederli assolutamente perché abbiamo fatto dei mega lavori uno in particolare è stato assemblare tutto il blocco e ovviamente andare a fare delle lavorazioni come si deve infatti lo chef Mattia ha fatto il lavoro con i fiocchi prima di dire tutto oggi andremo a fare una cosa fondamentale ovvero andremo a togliere il blocco 50 e andremo a montare tutto questo big board sono gasato davvero spero che anche voi vi ha trasmesso qualcosa in tutta questa serie perché sta uscendo davvero molto molto bene stiamo facendo le cose a regola d'arte e secondo me ci darà tante soddisfazioni alla fine ma cosa andremo a fare oggi andremo a fare una piccola messa a punto per quanto riguarda l'accensione infatti va messa in fase poi andremo a carburare e alla fine monteremo e tra l'altro andremo anche a fare un test su banco per scoprire i cavalli reali di ciuchino così da togliere tutte le voci e facciamo parlare i fatti iniziamo non perdiamoci troppo che sono gasatissimo vamos ciao ciao Questa famiglia è stata una delle serate più intense Però dopo tanti sacrifici scopriremo se finalmente Ciuchino parte Vediamo Secondo me due polpi e parto Me lo sento Perfetto Ehi Dice che non ti viene accelerato Eh sì eh Perché è chiaro Provo Prefetto Siamo in un po' di carburazione Questa famiglia era solo una prima accensione Ovviamente va carburato per bene Sistemato un po' il filtro e tutto il minimo Però è partito Sono contentissimo Andremo a rimontare il tutto Più plastico e tutto E poi faremo un nuovo test Ciao! 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 Famiglia fermi tutti perché anche in questo episodio ci sono delle super novità Infatti mi è appena arrivata una grande modifica qua per ciuchino Pronti? Beccatevela qui È la nuova sella Infatti quella originale era molto brutta datata E ora è tornata nuova Ma con dei materiali super super premium Ora ve la spiego La sella infatti ragazzi è stata realizzata dai ragazzi di Volcano E hanno fatto un lavoro da panico I materiali utilizzati sono l'alcantara Come vediamo in questo caso qui così E poi un secondo materiale che serve per dare grip al passeggero Un materiale tecnico davvero fatto molto molto bene E poi i miei loghi Guardate qua Messicano Realizzate un'incisione a laser Sia dietro che davanti Qui troviamo cartel messicano Ovviamente per questi piccolini dettagli e tutto La cosa migliore è utilizzare il laser Guardate super preciso e di qualità Bene famiglia io vi lascio qua sotto in descrizione Il link della loro pagina Mi raccomando se anche voi avete dei lavori da fare Delle celle così le fanno per qualsiasi moto Quindi basta chiedere perché fanno dei lavori davvero da panico Affidatevi solo ai migliori Ma le novità non finiscono qua Infatti sono arrivate Guardate qua famiglia Le nuove felpe del messicano Too fast for chicas Guardate qui che belle Tra l'altro super super morbide Di qualità se volete utilizzarle anche alla sera Per uscire con la vostra chica Sono perfette Io vi consiglio di prendere una taglia in più Se vi piace vestire morbidi Tipo nel mio caso io porto di solito la M In questo caso è una L E ci sto perfetto Vi ricordo che io sono alto 1,85 e peso 90 kg Così avete un po' un paragone Io vi lascio qua sotto Il link in descrizione dello shop Il messicano officia Mi raccomando sono pochi i pezzi Quindi famiglia dateli il fuego Che solo voi sapete dare E ora andiamo a montare il tutto Vamos Ci siamo famiglia E ora finalmente useremo il booster Tra l'altro è stato carburato Sistemate un po' le massette E tutto Quindi è il momento Che tutti voi un po' aspettavate Compreso io Allora accensione Che ho cambiato l'impianto elettrico Tac Così Ficiamo sul tasto Tra l'altro ora è stato anche ricarburato Quindi dovrebbe partire molto più facilmente Vediamo Ora si ragiona Ora si ragiona Signori Facciamolo scaldare un attimo Mia senti quanto zira Eh puto Buono Sono già gasato E sono ancora fermo Guardiamolo bene bene E zira un sacco Cioè Prima Stava bloccato È incredibile come Cambiando le massette Carburandolo Si stravolge Lo scooter Che mostro Il boosterino È davvero uno degli scooter Più divertenti in assoluto Perché è leggerissimo E super maneggevole E tanto piccolo È bello Bello Che si impenna Solo a sfiorare il gas Wow Porco cane Se gira No no Devo fare un upgrade Assolutamente Ai freni Ora Se troppo Se troppo Carne al fuoco Al fuoco Famiglia Siamo solo all'inizio E ciuchino Ha già iniziato A regalarmi Un sacco di emozioni Davvero Gira tantissimo Mi piace Ovviamente Va ancora un attimo Sistemate le massette Sotto sotto Però siamo sulla strada giusta Il che Sono molto molto felice Ora Poi lo vedete così Un po' con la sella azzurra Che magari un po' stona Ma vi dico già Va sistemate tutte le chicchettine Perché saranno azzurrine Riprenderanno il colore E uscirà uno degli scooterini Più bello d'Italia Più caliente Quello è sicuro Vi ricordo Siamo solo all'inizio Quindi se avete anche consigli Modifiche da fare Scrivetelo qua sotto Nei commenti Che vi tengo sempre in considerazione Sapete che siete la famiglia Quindi vaso su di voi Detto questo Iscrivetevi al canale Mi raccomando Passate sullo shop Per prendervi questa super hit Vi ricordo Ci sono pochi pezzi E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Ciuchino Adios famiglia